Che cosa cerca di comprare un alto spendente? L'alto spendente cerca di comprare qualcosa innanzitutto di esclusivo, quindi un'esperienza, adesso la spieghiamo nel dettaglio senza rimanere teorico, quindi comprare qualcosa che sia un prodotto, che sia un servizio, che sia un'esperienza unica, particolare, esclusiva, che può avere solo lui e pochi altri, eccetera, eccetera, eccetera. E in particolare che questa cosa sia, diamo questa nuova definizione moderna così non mi prendono per bumerone, ok? Quindi cerca qualcosa che non sia solo esclusivo, ok? Unico, particolare, eccetera, eccetera, quindi per il quale è disposto a pagare un sovrapprezzo rispetto a quello che dovrebbe essere il normale valore di mercato se fosse calcolato in funzione delle materie prima o del tempo di un professionista, ok? Frank Merenda è l'uomo che ha stabilito un record dopo l'altro nella formazione per imprenditori. Autore di best seller come Vendere fa schifo se non sai come farlo, le sette leggi del marketing per il ventunesimo secolo e 50 colpi di Frank. Creatore del Merenda Monthly, l'unico mensile dedicato agli imprenditori. Migliaia e migliaia di imprenditori frequentano ogni anno i suoi corsi, rendendolo a tutti gli effetti uno dei più seguiti e pagati formatori in tutto il mondo. Ha testato le sue conoscenze in centinaia di settori e con migliaia di aziende. Ha lavorato fianco a fianco con diverse leggende del marketing mondiale. Ha letteralmente cambiato il tessuto imprenditoriale, portando nelle sue aule imprenditori da tutto il mondo. È arrivato a riempire un palazzetto dello sport con 5136 persone, pronte a studiare e cambiare le loro attività. Ha costruito in Svizzera il primo e unico centro studi per imprenditori in Europa. Tutto questo è Frank Merenda. E in questo canale YouTube hai la possibilità di seguire in modo completamente gratuito le sue lezioni. Iscriviti ora per non perdere nemmeno un video. Ma deve essere anche, usiamo questa parola per i giovani, instagrammabile. Cioè deve essere mostrabile agli altri. Cioè l'alto spendente non è che compra... Esiste solo una categoria di ricchi particolari che sono veramente pazzi, proprio bruciati. No, scherzo. Ognuno ha i gusti. Io sono liberale totale. Ognuno fa quello che vuole con i propri soldi. Cioè esiste una categoria particolare di persone. Che è quella dei collezionisti in realtà, no? Che comprano delle cose ma non le mostrano. Cioè le tengono in casa nel loro atelier particolare, nel loro garage, nella loro cantina, nella loro sala particolare. In realtà non è vero che loro non le mostrano. È chiaro che non vanno in giro con la maglietta con scritto Gucci, ok? O col pataccone, eccetera. No, loro lo comprano per loro. No, in realtà lo comprano perché oltre che essere altospendenti, sono anche elitisti. Cioè in realtà pensano che voi uomini comuni non abbiate... Non sono il quatto che si compra la Ferrari per farsi vedere da tutti, ok? Stanno comprando qualcosa di così unico, così particolare. Che dicono voi poveri plebei, non siete nemmeno in grado di capire questa cosa. Quindi la mostrerò solo a quelle 10, 15, 20 persone che metteranno piede in casa mia e che sono esperti come me, ricchi come me, appassionati di arte come me, eccetera, eccetera. Quindi anche loro, ok, che sembrano un'eccezione non lo sono perché cercano qualcosa di unico, speciale, questi proprio unicissimo, eccetera, eccetera, ma cercano qualcosa di instagrammabile. Quindi dal collezionista che lo fa vedere solo a quattro persone nella sua vita, ok? Perché vuol fare rosicare loro, che lui ce l'ha e loro no. Per questo lo compra, non se lo compra per guardarselo, ok? Smettete via il buonismo mentale che avete. Alla persona che si compra la Ferrari per fare il puttanierino quattro che va in giro col ferrarino rosso a zocco, è la mentalità stendenzialmente quella. Quindi avere qualcosa di unico, particolare, speciale, un'esperienza molto particolare, ok? Esclusivo, questa è la parola giusta. L'altra è che sia in qualche modo instagrammabile, cioè nel senso che sia possibile diffondere la conoscenza che io ce l'ho agli altri. Ma qui non è in realtà il vero punto della situazione, perché fino a qui magari ci arrivano tutti. La seconda parte dell'equazione è quella che è meno socialmente accettabile, ok? E quindi la gente non la riconosce e non la capisce. Per esempio, la Disney è bravissima da questo punto di vista, ma la maggior parte delle aziende in realtà sono bravissime da questo punto di vista quando sono un po' sofisticate, soprattutto le aziende che lavorano nell'ambito del lusso. Ma così come ci arriva semplicemente anche il titolare del vostro locale, club un po' esclusivo o discoteca un po' esclusiva. Adesso ve lo spiego. Quindi avere qualcosa di unico, esclusivo, particolare, solo per me, eccetera, eccetera. Due, il fatto che sia instagrammabile. Ma questo non è sufficiente. Il terzo punto dell'equazione della mentalità dei ricchi è che non è solo che deve essere un'esperienza unica, gli altri lo devono vedere. Il terzo è, c'è una punta di sadismo, cioè che tu non devi poterlo avere. Tu, inteso come le persone comuni, cioè deve essere qualcosa che possa essere condiviso solo con persone disposte a spendere quelle cifre e quindi appartenenti a una determinata cerchia sociale, ok? C'è un godere che è, pari me, è equipollente il godere dal fatto di possederlo, ok? Poterlo mostrare e il fatto che tu non possa averlo, ok? È altrettanto importante, fa parte dell'equazione. Cioè, poi manca il quarto punto, ma adesso ci arriviamo. Il fatto che la gente vada a mangiare la pizza da abriatore non ci va perché la pizza è buona. Abbiamo detto al primo livello, non sta comprando la pizza. Se vuole andare alla pizzeria sotto casa, non c'è bisogno di andare da abriatore a mangiare la pizza a 15 euro. Ragazzi, ce la fate? Quindi non c'è da difendere la pizza da abriatore. Loro stanno andando lì per, in realtà, avere un'esperienza dove sanno che c'è della gente che si lamenta. Cioè, il fatto che ci siano, scusate la parola, non voglio, lo dico dal punto di vista didattico, senza nessuna accezione negativa reale nella parola. Il fatto che ci siano i poveri che frignano e si lamentano e quindi c'è una pizza a Guitamur, loro godono, ok? Cioè, loro godono del fatto che voi frignate che la pizza è abriatore e quindi non ci andate perché non ve lo potete permettere. Quindi loro godono parimenti del fatto di essere lì e del fatto che voi rosichiate perché non potete essere in quel posto. Finché voi non capite questa cosa, continuerete a dire che la pizza di abriatore è cara o non è cara, eccetera, eccetera. Ma questo vale per qualunque brand del lusso, ok? Poi, apro una piccola parentesi, c'è da dire che non è che basta questa cosa, nel senso che poi l'esperienza vera ci deve essere anche perché la gente poi odia buttare i soldi. Vi faccio un esempio tipico che è parallelo a quello di abriatore. Per esempio, come si chiama il tizio turco, Nurset, Nusret, lì, quello che faceva il sale lì sulla bistecca. Vabbè, avete capito tutti, non voglio sminire, che sincero non mi ricordo se va prima l'RLS, Nusret, Nurset, quello lì, ok? Bene, se voi andate a vedere, questa era la classica esperienza dove andavo a mangiare la carne, costava un botto, era un'esperienza esclusiva, dovevo prenotare, eccetera, eccetera, e in più era instagrammabile, cioè la gente non andava lì per mangiare la carne realmente, perché dagli esperti che conosco io di carne e anche le recensioni che c'è in tutto il mondo, la carne che fanno da Nurset, quindi Nusret, è assolutamente mediocre, spesso tagliata pure male e cotta in maniera assolutamente mediocre, quindi non è un posto per i cultori della carne, dove mangio dei tagli così unici, raffinati, che arrivano solo una selezione per lui dal Giappone, no, 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 è carne media, mettiamola così, cioè per il prezzo della venda è carne media, cara, ok, rispetto a come loro la sanno cuocere, la sanno preparare, ma la gente non va lì per la qualità, per l'unicità del prodotto, va lì perché era il posto, è il posto ancora più o meno di tendenza, dove vado a Instagramarmi, cioè vado a fare le foto, ok, e a far rosicare voi che non siete lì, mi faccio la foto, il pago, mi faccio la foto con lui che fa così, ho un esperimento e me la rivendo, io sto comprando, ragazzi, l'alto spendente non sta comprando la carne e non sta comprando, segnatevi questa cosa, ok, vi sto facendo formazione gratuita, segnatevi questa cosa, l'alto spendente si sta comprando la possibilità di raccontare una storia a tutti i suoi conoscenti per i prossimi 20 giorni, ok, questo chiunque incontra ha un argomento da raccontare, si compra la, si chiama cocktail party story, ok, cioè ha un argomento da raccontare alle persone, sai che sono stato da, e lui se la gode, è come quando vi comprate la macchina e i primi giorni ve la guardano tutti, no, vi comprate un nuovo vestito, le ragazze fanno shopping per questo, per essere guardati i primi giorni, o si fanno i capelli tutti, per essere guardati, ok, andare in questi locali, fare questa esperienza, significa comprarsi una storia da raccontare, per quello che voi non riuscite ad attirare gli altri spendenti, perché? Perché venire da voi non permette alle persone di raccontare nessuna storia, cioè se io vado sotto casa, ragazzi, a mangiarmi la pizza, anche se è più buona di quella di Briatore, costa meno, mi seguite, ce la fate, non ho nessuna storia da raccontare, da Briatore io sto comprando la storia da raccontare, oh, sai che sono andato a Briatore a mangiare la pizza col patanegra a 60 euro, bla bla, e divento il centro, l'anima della festa, la persona con la quale tutti vogliono parlare, perché ho da raccontare una storia particolare, unica, speciale, e gli altri li rosicano, gliela racconto perché li voglio far rosicare, ok? Finché voi non accettate questa cosa, che i prodotti peraltro spendenti sono fatti per comprare una storia da raccontare agli altri, voi rimarrete alla mentalità napoletana, marxista, comunista, ma l'acqua costa così, ma la farina costa così, ma la pumarola costa così, e quindi è un furto, perché non capite, perché non capite, non volete accettare cosa compra un alto spendente, ok? E non c'è niente di male a non voler capire, accettare, però dopo non vi lamentate che non riuscite ad attirare gli alto spendenti all'interno della vostra attività, perché non date a queste persone quello che queste persone vogliono, e questo è il problema, ok? Ah, stavo parlando di Nursetli, ok? Lui ha un problema, nel senso che, a forza di far cagare la carne da lui, e a forza di avere dei problemi, lui ha un sacco, se leggete i giornali un po' le notizie, magari in inglese, in italiano è uscito poco, lui ha un sacco di cause nei suoi ristoranti, in giro per il mondo, con i dipendenti, perché alcune volte li tratta male, altri non sono stati pagati, quindi ha dei dipendenti con le quali è in causa in tutto il mondo, ma in generale il servizio è abbastanza mediocre, è abbastanza pessimo, e le recensioni su TripAdvisor, nei suoi ristoranti a Londra, in giro per il mondo, fanno schifo, cioè, dove lui è, è uno degli ultimi ristoranti, cioè la gente ci va una volta, si fa la foto Instagram, eccetera, eccetera, ma poi serve anche il resto, cioè, Disney io non vado a farmi solo la foto, eccetera, eccetera, è così bella l'esperienza che mi fanno vivere, che io divento un fan veramente entusiasta, ok, quindi non è che basta solo l'esperienza esclusiva, poi mi trattano di merda, mi prendono a calci cuoce, ci deve essere un mix, ok, non è che mi puoi vendere la merda per cioccolata, però è merda pagata cara, allora la compro, perché non è così da brettore, perché alla fine è vero che il locale è bello, è vero che è esclusivo, è vero che hanno una cantina di vini molto particolare, che in altri posti non trovo, è vero che non ci sono dei cafoni intorno che rompono i coglioni, ok, è vero che l'esperienza è diversa, perché arrivano i dolci, c'è l'esperienza con il tiramisù, te lo vengono a fare al piatto direttamente vicino al tavolo, ti fanno tutta la cerimonia, il caffè te lo preparano davanti con la moca, non con la cerimonia, quindi ragazzi, da un certo punto di vista si impegnano, ok, poi non so, io non ci sono stato, quindi non so se poi l'esperienza, il trattamento che ricevi, alla fine nel lungo periodo il gioco varrà alla candela e quindi riuscirà a fare meglio di Nusret, insomma nel non inimicarsi la folla che va nel suo locale pagando caro perché li fa innamorare davvero, non sono un futurologo, poi non ci sono nemmeno stato, quindi non saprei nemmeno dirvi, ok, questo però è per dirvi ragazzi che non è che il ricco è coglione, cioè vuole spendere soldi per farsi inchiappettare, non è così, ok, non è così, magari una volta ci va per comprare comunque solo l'esperienza, ma poi non ci torna, ok, quindi non pensate male, perché gli autospendenti non sono coglioni, se andate a vedere le recensioni nel mondo dei locali di Nusret, vedete che tutti gli dicono vaffanculo, te il tuo sale di merda sul gomito, e te lo devi mettere nel mondo dei locali, gli dicono così, ok, quindi io non so se Briatore farà la stessa fine con i suoi locali, non credo, cioè secondo me, io l'ho sentito parlare, ho visto un po' le recensioni, mi sembrano maggiormente positive da quel punto di vista, però non è il punto, questo era solo per aprirvi una parentesi. L'altro passaggio che è il quarto, che vi volevo dire, che fa parte della mentalità dell'altospendente, quindi abbiamo detto, deve essere, compro qualcosa di esclusivo eccetera eccetera, deve essere instagrammabile, tu non te lo devi permettere, il quarto è il concetto del club privé, cioè non solo, non basta che tu non te lo possa permettere, tu non te lo devi permettere, ok, e mi devi vedere mentre ne godo e tu stai fuori. Avete presente il concetto del club privé? Il club privé dentro la discoteca, o dentro i locali, non è chiuso, cioè non sono quei locali Ice White Shuttle, dove c'è la Playboy Mansion, dove sono le stanze particolari che ci entri con un tour, no, 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 il club privé, c'è il vetro, ok, e si vede benissimo che io sono tra i ricchi, sono dentro, e tu stai fuori, e tu mi devi guardare, ok, come allo zoo, ok, e devi rosicare perché non puoi entrare dove sono io. Il concetto dell'altospendente non è solo il concetto di spendere necessariamente i soldi, è anche semplicemente far parte di quella schiera di persone che possono entrare. Cioè ci sono alcuni posti, ragazzi, dove io posso entrare perché sono ricco, cioè nel senso i soldi, ma che me lo posso permettere, in altri posti posso entrare non perché pago, ma semplicemente perché io sono io, e se vado io e gli dico, sono io, mi fanno entrare, e a voi no, anche se non ho pagato, ok, quindi l'altospendente cerca questo tipo di esperienza, cioè di legarsi, ok, a persone anche che di un certo tipo, sarebbe, gli inglesi direi gli americani, di keeping up with Jones, cioè stare all'interno del circolo delle persone che contano, ma vogliono farti vedere che tu stai fuori. Cioè, questi quattro punti fanno tutti parte dell'esperienza di quello che compra realmente un altospendente, se non vi piace, è così uguale, ok, è così uguale, ok, quindi esperienza unica, che deve essere instagrammabile, che tu non ti puoi permettere, e devi rosicare perché mi devi vedere, non la voglio fare senza che tu mi, non basta che tu non possa permetterlo, ok, devi vedermi mentre lo faccio, vi faccio un esempio, a Disney lo faccio sempre, che tutti, allora, il concetto degli altospendenti, l'altro giorno, articolo di giornale, la gente si lamenta, i comunisti in Italia, si lamentano che a Gardaland c'è il salta alla fila, e quindi se io compro il salta alla fila, non sono abbastanza comunista da fare la cosa con tutti gli altri, e insegno ai bambini che quelli più ricchi sono cattivi e possono saltare la fila, io così, va bene, ok, questo è Gardaland, vi spiego come funziona Disney, a Disney c'è, è peggio, perché c'è la coda normale, poi anche da loro c'è il fast pass, c'è la coda veloce, chiamiamola così, ok, come gli Universal anche, più o meno la stessa forma, leggermente diversa, ma il concetto è quello, bene, quindi c'è una, come a Gardaland, c'è una coda un po' più veloce, e la coda quella lenta, ok, ma non basta così, se voi, come faccio io, quando andate a Disney World, prendete quello che si chiama Disney VIP Tour, e costa una media dai, a seconda della stagione, dai 500 dollari agli 850 dollari all'ora, quindi dipende il giorno che ci andate, il mese dell'anno che ci andate, eccetera, eccetera, quindi fino a 850 dollari all'ora, quindi una giornata vi costa 5, 6, 7 mila euro, invece che costarvi i 130 dollari di biglietto normale, penso che adesso sia più o meno così, quindi cercate di capire, ok, io quando vado a Disney World, pago quei soldi lì, che cosa succede? Succede che, allora vi spiego la differenza tra Disney, che sono più figli in drocchia, e gli Universal, negli Universal, ti portano per un percorso, la guida ti porta dietro l'attrazione, c'è una porticina nascosta, dove ti fanno entrare, ti fanno saltare tutta la fila, ed entri direttamente davanti nell'attrazione, ok, perché hai pagato, non vuoi fare la coda, non vuoi stare sotto il sole, quindi la guida ti prende giustamente, tu hai pagato, ti fa saltare la coda, perché ti porta dall'ingresso specifico per queste persone, bellissimo, ok, Disney non fa questo, Disney è molto peggio, sono molto più stronzi, per i bambini, Magica Bull, col cazzo, no, 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 Disney è peggio, Disney prende le due file, ok, tu, la guida, prende, le ferma, le sposta, ti fa passare di fianco, e tutti quanti, la fila quella dei poverissimi, e la fila quella dei quasi ricchi, perché sono quelli che hanno pagato, il biglietto che costa di più, si fermano, perché tu gli passi a coda, sfili, vogliono farti vedere che tu con la guida sei ricco, perché è marketing per loro, tu stai comprando, ok, un biglietto che costa 5, 6, 7 mila euro in un giorno, rispetto a loro, quindi loro ti fanno sfilare accanto a tu, tutti si girano, quindi tu hai due code di persone che si girano, ti guardano, e tu gli passi accanto con la guida, col cappellino di Indiana Jones, questa si mette davanti, arrivi davanti a tutti, fa così col braccino, tu entri, e loro vanno, e tu entri direttamente dentro la trazione, ma il quarto punto, loro ti hanno visto, ok, Disney vuole che la gente veda, che se non paga, ci sono delle cose che non può permettersi, e chi paga le può avere, questo è il marketing a Disney, è marketing dell'esclusione, altro che l'inclusività, sì, poi fanno il pride, l'inclusività, l'inclusività, il cazzo, se non tiri fuori i soldi, devi rosicare, devi schiumare, come un granchio, te, tuo figlio, sotto il sole, quattro ore di coda, per fare la giustina di Pinocchio, questo è la Disney, ragazzi, questo è come funziona, ok, quindi che vi piaccia, o no, ok, questo è come funziona, funziona il concetto di vendere agli altospendenti. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito, e attiva la campanellina, non vorrai mica perderti la prossima diretta, con tutte le strategie utili, per raggiungere il successo, giusto? Allora fai bravo, iscriviti ora.